Il procuratore generale, il procuratore militare presso la corte di Cassazione, Pierpaolo Rivello, ospite nei nostri studi tra le sue inchieste e i crimini nazifascisti custoditi nell'armadio della vergogna. Una vita dedicata alla storia e alla giustizia, Pierpaolo Rivello, procuratore generale militare presso la corte di Cassazione, nostro ospite di stasera. Buonasera e benvenuto. Cinque giorni fa il presidente della Camera Boldrini ha annunciato di aver reso pubblici di 695 fascicoli contenuti nel cosiddetto armadio della vergogna, da cui sono uscite numerosissime inchieste sui crimini nazifascisti di cui lei si è occupato in questi anni. Che cosa ha provato a questa notizia? Sì, questo provvedimento è stato il provvedimento finale di un processo ormai graduale che aveva portato a rendere ostensibili tutti questi documenti. Stiamo parlando di 695 procedimenti che erano conservati in questo famoso armadio, il cosiddetto armadio della vergogna era stato un titolo efficace dato da un giornalista giusto lisi e poi erano stati trasmessi alle varie procure territorialmente competenti e a Torino ne erano arrivati circa 200. Devo dire che per quanto riguarda la fascia Piemonte, Liguria e Lombardia già da tempo noi avevamo fatto sì che gli storici potessero lavorare su questi documenti. Quindi questi erano già documenti conosciuti per tutto quanto riguarda gli storici locali. Però questo provvedimento è comunque molto significativo perché permette a un qualunque cittadino italiano a questo punto basta accedere ad internet e può rendersi conto non soltanto di quelle che sono le sentenze ma sono molto significativi per quanto riguarda le deposizioni, le persone informate sui fatti che descrivono queste vicende, questi orrori incredibili. Stiamo parlando di, pensiamo alle Cidio e la Benedicta, pensiamo alle Cidio di Sant'Anna di Stazema, di Marzabotto. Ecco, centinaia e centinaia di morti. Quanto le è costato, se le è costato in termini personali, di rapporti personali, aver lavorato a inchieste così delicate? No, non soltanto non mi è costato ma è stato un grande arricchimento perché io grazie a queste inchieste ho potuto conoscere dei personaggi straordinari, veramente dei personaggi straordinari. Alcuni di questi partigiani erano delle persone che veramente hanno dedicato la loro vita credendo in valori per i quali erano pronti a morire e molti sono morti. Ecco, sentendo la loro voce, le loro descrizioni, quello in cui loro credevano e questo è stato veramente molto importante. Per esempio, io ne ricordo uno che è mancato l'anno scorso, che si chiamava Odino ed è stato veramente un personaggio straordinario. E mi diceva, poi lui è stato, poi ha vissuto a Bruxelles ed è stato anche uno dei tanti che ha creduto in una grande Europa perché diceva che soltanto un'Europa diversa avrebbe permesso di far sì che orrori quali quelli del nazionalsocialismo non avessero più a ripetersi per il futuro. Un'ultima domanda, cosa hanno in comune, se hanno qualcosa in comune tutti i criminali che si sono macchiati di crimini appunto nazifascisti che lei ha conosciuto come Dribb e altri? Sì, 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 c'era un collante comune. Tutti questi personaggi non si sono mai pentiti. Tutti questi personaggi hanno detto che se avessero potuto rivivere avrebbero esattamente rifatto queste cose perché dicevano loro non facevano altro se non obbedire a degli ordini superiori e stiamo parlando di persone fortemente plagiate. Fin da piccoli erano stati imbevuti in questa ideologia, folle ideologia del nazionalsocialismo. Grazie, grazie procuratore di Bello per essere stato con noi.